Sono stati presentati nei giorni scorsi in Ateneo dal Rettore Graziano Leoni e dal Direttore Generale Andrea Braschi Ibandia Cascata che l'Università di Camerino in qualità di capofila dello SPOC6, il sottoprogetto specifico di Vitality dedicato all'Innovation and Safeness in Living Environments in the Digital and Green Transition Era ha appena pubblicato e che sono relativi a contributi alle imprese per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale Sono 1.400.000 euro, mediamente, siccome poi saranno 7 i progetti che verranno finanziati, sono 200.000 euro mediamente per realizzare attività che sono le più diverse è un momento, come al solito, importante perché è proprio l'atto che ci consente di entrare nel territorio in qualche modo distribuendo un finanziamento che è stato attratto dall'Università con questo progetto Vitality, uno degli 11 ecosistemi nazionali e che vede coinvolte tutte le Università del Regione Marche, del Abruzzo e dell'Umbria In questa maniera l'Università mette a disposizione di aziende private un finanziamento che ha avuto per sviluppare delle attività di trasferimento tecnologico L'importante è anche perché per noi è un'esperienza un po' unica, se vogliamo perché bandire progetti nei confronti di privati non è normalmente lavoro che fa l'Università Per questo si chiamano bandi a cascata, cioè noi riversiamo sul territorio qualcosa che abbiamo ottenuto partecipando a un bando L'Ateneo metterà a disposizione un finanziamento complessivo di poco più di 1.400.000 euro e potranno partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese in modalità singola o collaborativa Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma all'indirizzo bandi.fondazionevitality.it entro il 31 gennaio 2024 Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.unicam.it